vediamo chi e cosa troviamo qui non tornate a mano bella ragazzi bentornati nell'ottavo episodio di mv3 perfetto ok mi muovo vediamo se trovo qualcosa qua in giro niente silenziatore? serio? capitano sono all'ascensore c'è una scala ricevuto usala bravo ho identificato il bersaglio andrei nolan era nell'inner circle di makarov ha un ruolo importante nelle gerarchie di conni uno con cui mi piacerebbe fare una ganchiera primario lasciami non pezzo ora il tuo bersaglio è nolan cazzuralo e portalo via ok guys ci prendiamo nolan inizia a salire verso il tetto ricevuto come lo estraiamo? vivo io organizzo la fuga ci vediamo lassù attento sei due diversi nemici in avvicinamento noi già ci stile qui non c'è qui non c'è ci stiamo iniziando ricazzo nuovo ribao l'atria alfa принäta noi более чем прикriti parla di g che cazzo io non sentito allora Non mi piace questo, non mi piace di Nolan. Io le dirò di prendere. Bene, lo chiedono già a presto. Si, ho capito. Che c'è da voi? I lavoro. Lontanze! 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 Gassi! Ci sono limiti sulle scale. Ti vedi? Ho capito. Scadi e guardare. Prima! Cazzo, dovevo entrare qua! Cazzo, dovevo entrare qua! Merda! Lontanze! Vedete? Non c'è nessuno Cosa c'è? Hai visto? Hai visto? Poi. Andiamo qui. Cazzo, ce n'è uno qua. Come faccio? No. Okay. Ok. . . . . Ok Easy Cazzo Quanti sono Madonna Esco dall'edificio Non è silenziato Merda Mi hanno visto Basta Qua si può Le scale sono bloccate Avanzo al settimo piano Continua ad avanzare Stai su Cosa c'è qua? Oh no Salgo all'ottavo piano Ne mancano pochi Andiamo a prenderlo Questo è il settimo Capito Cosa è Cosa è Qui? Chi? Stai Cazzo non è termico, è notturno Cazzo non cazzo 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 Ah, carica Ah, carica Cazzo non cazzo Cazzo non cazzo Ah, carica Non cazzo non cazzo Cazzo non cazzo Cazzo non cazzo Sky, carica Ah, carica Cazzo non cazzo 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 Cazzo non cazzo